buongiorno a tutti ragazzi e ragazze bentornate sul canale scusate per il mal di mare e per il ritardo ma ero in giro oggi per compiere ho fatto tardissimo sapete che qua in pianura padana c'è una nebbia da paura ora però sono arrivata vi faccio questo brevissimo video intanto sto mettendo dentro il link del video che genera ovviamente i commenti fa il conteggio ci sono stati 193 commenti quando schiaccerò start verrà fuori il commento vincitore sono contenta che avete partecipato in tantissime e che avete colto il senso di questa box buona fortuna a tutte e vediamo chi ha vinto questa bellissima box complimenti la vincitrice è stata ad ora gallucci ai tempo di tre giorni per mandarmi un email che troverai giù nell'infobox con il tuo indirizzo i tuoi dati sensibili e provvederò a spedire il pacco il più presto possibile ovviamente durante la settimana faccio fatica ad andare in posto perché lavoro ma sabato prossimo che è natale quindi niente è la settimana dopo appena posso te lo spedirò sono contenta che abbia ricevuto tu perché comunque hai scritto un bellissimo commento attendo i tuoi dati un bacione e buona serata